In tantissime circostanze della vita l'immaginazione si scontra con la realtà, come accade qui in pieno centro storico di Alcamo, dove ancora una volta possiamo documentare certe situazioni che ci vengono segnalate e sono testimoniate anche da chi per proprio dovere di lavoro, di servizio pubblico deve andare a raccogliere ciò che viene abbandonato puntualmente all'alba di ogni domenica o comunque all'alba di ogni giornata di fine settimana in cui l'atrio del Collegio dei Gesuiti ma non soltanto l'atrio del Collegio, anche altre aree del centro storico stesso sono trasformate in una vera e propria pattumiera. E allora voglio mostrarvi le immagini che ci giungono dall'atrio del Collegio dei Gesuiti che sono relative alle prime ore del mattino di domenica scorsa dove orde incivili, se possiamo utilizzare un termine elegante, probabilmente sfidano la nostra capacità di immaginare un luogo più pulito dove il bello possa coniugarsi con l'eleganza e con il rispetto dell'ambiente, oltre che con il decoro urbano. Da queste immagini evidentemente possiamo farci una chiara idea di come il problema sia del tutto irrisolto perché tante volte già in passato è stato documentato mediante servizi video qui su Alcamondo Blog ed evidentemente ancora c'è chi agisce indisturbato o comunque pensa di poter agire indisturbato trasformando questo centro storico in ciò che vedete mediante queste foto e questo video. E allora non ci resta che aspettare ciò che sarà fatto in questo fine settimana e venerdì sera in questo luogo così importante come l'altro del collegio dei Gesuiti, dico ciò che sarà fatto o meglio aspettiamo ciò che non sarà fatto e cioè magari risparmiarsi di trasformare in una pattumiera questi luoghi e magari godersi in modo più sano il tempo che si ha a disposizione in compagnia o comunque in solitudine, questo non lo sappiamo ma godersi il tempo che si ha avendo un atteggiamento più rispettoso per gli altri, per l'ambiente, per la città e per se stessi perché trattare la città in questo modo significa non avere neppure rispetto per se stessi. Grazie a tutti.